grazie 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 vi ringrazio per l'entusiasmo ma che cos'è? chi è lei? sono la nota, l'instituto ma non sputi che schifo Jennifer Lopes no, Jennifer Lopes ma chi la manda? agenzia e vinti mandrò che managgia per 2003 cioè? Ugo ah Ugo, poi Ugo ce la paga questa vabbè, in che cosa Jennifer Lopes ha il sedere assicurato per decine di milioni anche io non c'è di furto non ci girano i uomini ma perchè c'ha lo scotch qua? se no escono i carciofili ma per favore, ma non la smetto di mangiare vabbè, visto che qua ci faccia qualcosa visto che è il sosia sono impossibilitato perchè? sono malata chi ce lo dice? idiotificata ma aspetta di mangiare ti faccia una cosa alla Jennifer Lopes e se ne vada qualcosina dai aiuto terminato ma se ne va ma cosa vuoi dire? Ugo, poi ci...